ciao a tutti cari amici benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra creatività e quant'altro possa aiutare ognuno di voi nel proprio percorso di crescita personale e spirituale quello che vedremo oggi è una lettura su una relazione diciamo che è difficile quindi andremo a vedere perché questa relazione è così complicata insomma cerchiamo di andare a capire quali sono se vogliamo i problemi all'interno della relazione abbiamo tre scelte sono tre scatole tre scatoline allora la prima è questa scatolina così verde di legno la seconda scatolina è fatta a forma di cuore è difficoltoso aprirla quindi non la però comunque arriva dall'india questa non so da dove viene e invece questa è una scatolina anche questa di legno è tutta intarsiata e arriva dai caraibi bene fate la vostra scelta potete sceglierne una due o anche tutte e tre e ci vediamo nella vostra stesa eccoci amici della stesa 1 andiamo a vedere qual è diciamo il motivo per cui questa relazione è complicata vi ricordo sempre che sono letture fatte per un collettivo quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo mostrami per il gruppo 1 perché questa relazione così complicata regina di spade cavaliere di coppe con una carta per piacere grazie grazie abbiamo un altro cavaliere di spade wow per certi versi sento che c'è una parte di voi due una parte all'interno della relazione che riflette un atteggiamento rigido un atteggiamento anche freddo alle volte con quello che mi dice la regina di spade ok probabilmente una delle due parti è molto mentale molto focalizzata in quello che potrebbero essere le questioni della vita magari in generale non intendo nella vita di tutti i giorni magari questioni filosofiche piuttosto che qualcuno potrebbe anche essere preso dal lavoro uno dei due magari è preso da quello che il lavoro è preso da quello che la gestione in generale di qualche cosa ok l'altra parte invece sento che è più se vogliamo emotiva ok per certi versi è una persona che protesa è una persona che comunque da del suo che ci mette passione ci mette amore quello che esprime il cavaliere di spade io sento che è un'energia un po intermittente ovvero il cavaliere di spade fa sempre riferimento a quello che sono dei movimenti super veloci però sono sono anche energie che vanno che vengono quindi che a volte ci sono ea volte no andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo la regina di spade per piacere grazie abbiamo un 6 di coppa al contrario 10 di bastoni al contrario io qui sento che la persona che è diventata fredda tra voi due che è diventata non che si è diventata fredda però è tendenzialmente è un po più staccata se vogliamo delle proprie emozioni è così per un qualche tipo di di situazione o di legame che c'è stato nel passato potrebbe essere che sia una situazione con voi o se siete voi che sia una situazione con questa persona ok comunque è un qualche cosa che con i sei di coppa fa riferimento al passato fa riferimento a un qualche tipo di nostalgia e 10 di bastoni sento che comunque un 10 quindi una carta che parla della chiusura di un ciclo della fine di un altro ma essendo al contrario come se qui qualcuno non volesse lasciar perdere una determinata storia del passato un qualche cosa che è successo un qualche tipo di aspettativa che si aveva ok chiamo a vedere per il cavaliere di coppa per piacere grazie due carte per il cavaliere di coppa wow allora abbiamo la sacerdotessa uscita la papessa e la sacerdotessa al contrario in cui sento che l'altra parte ok a questo forte desiderio di comunque creare qualcosa abbiamo l'imperatrice l'imperatrice mi parla di espansione mi parla di abbondanza potrebbe essere un qualche tipo di lavoro sento col giardinaggio giardineria qualcosa di questo genere magari qualche tipo di progetto fuori all'aperto no per qualcuno si parla di quello che sono che un progetto di tipo ecologico però ecco forse manca quel come vi posso dire quel contatto se vogliamo con il proprio intuito che hai da parte di questa persona andiamo a vedere il cavaliere di spade abbiamo la regina di coppa al contrario è un quattro di spade al contrario quindi io qui sento che questo tipo di energia perché dunque come vi dicevo prima il cavaliere di spade l'energia che vai che viene e qui con queste due carte sento che c'è qualcuno che ogni tanto se vogliamo o comunque la relazione in sé sprofonda in quelli che potrebbero essere le diversità a livello emotivo il modo in cui si vive emotivamente qualche tipo di situazione ok c'è un quadro di spade al contrario quindi come se non ci si prendesse il giusto il giusto momento per metabolizzare come se vi faccio un esempio in un momento di una discussione ipotesi nessuno dei due si calma da solo per cercare di capire può interagire civilmente ma magari si fa di fate prendere da quelle che la passione del litigio piuttosto che vi urlate contro e poi alla fine c'è una sorta di di sacco di isolamento ok allora quello che volevo vedere ancora e cosa si può fare insomma per riuscire ad andare avanti meglio per riuscire a migliorare la situazione all'interno di questa relazione andiamo a vedere cinque carte per piacere grazie di nuovo la sacerdotessa abbiamo il matto abbiamo il re di pentacoli lotto di coppe questa volevo uscire e il karma dunque quello che sento io qui è che c'è un profondo bisogno di come vi dicevo prima appunto prendere contatto con quello che è la propria parte intuitivo ok per qualcuno la sacerdotessa potrebbe fare riferimento al fatto che c'è qualcosa di nascosto c'è qualcosa di cui non si è ancora magari consapevoli non perché lo si voglia nascondere volontariamente ok c'è qualcosa comunque che diciamo sta sotto per certi versi c'è una sorta di come vi posso dire anche fidarsi una sorta di fiducia nell'altro che bisogna un pochettino sviluppare e che forse non è tanto presente ok sento che con quest'ora di pentacoli c'è bisogno di quello che è una sorta di stabilità vi ricordo che qui avevamo il cavaliere di di spade quindi è un'energia che va chi viene mentre il re di pentacoli parla proprio di quello che un energia che in realtà dovrebbe stare dovrebbe rimanere dovrebbe essere concreta parla anche il re di pentacoli perché potrebbe anche riferirsi a un qualche tipo di persona che è diciamo intorno a voi intorno a questa relazione e che così metta un pochettino il becco probabilmente o può essere una persona che magari pensa di consigliare per il bene in realtà in realtà poi magari complica le cose più del dovuto ok quello che si sento è che c'è bisogno di prendere questa distanza con lotto di coppe anche c'è bisogno di fare quel tipo di lavoro se vogliamo spirituale quel tipo di viaggio anche e la carta finale e la carta del karma quindi io qui sento che qualcuno attraverso questo viaggio attraverso quello che è il lavoro sulla propria intuizione sul sul proprio scusate sul proprio se si arriverà ad avere quello che è un'illuminazione ok il karma parla proprio di quello che è una chiamata può anche essere una chiamata fisica se c'è al telefono un email un whatsapp se magari in questo momento voi siete in separazione per esempio o comunque un qualche tipo di contatto via via telefono insomma vi arriverà un qualche tipo potrebbe anche essere qualcuno che torna dal passato potrebbe essere quest'ora di pentacoli però io qui sento che è più tutto focalizzato sul fatto che una persona sia diciamo a livello caratteriale un po più sulle sue mentre l'altra persona magari è più abituata a essere espansiva quindi c'è un darsi e ritirarsi all'interno della relazione che crea insicurezza comunque ok scusate con quello che è il lavoro di cui mi parla la sacerdotessa e lotto di coppe quindi questo tipo di introspezione questo tipo di autoanalisi sento che si arriverà a quello che è la comprensione di su cosa insomma poter fare per migliorare la relazione per migliorare anche il modo di andare avanti della relazione ok bene un'ultima carta per voi un messaggio di luce vediamo cosa vi dicono avanzamento bellissima e difatti qui comunque col cavaliere di spade si parla di quello che è un andare avanti no e dice una forte energia ti sta propulsando ti sta spingendo in avanti segui i battiti del tuo cuore quindi segue il tuo ritmo in un certo senso ok bellissima carta mi parla comunque di avanzamento quindi il karma il karma qui io sento che una volta fatto questo tipo di lavoro di cui parla comunque la sacerdotessa o seguita quella che l'intuizione ok io sento che ci sarà quello che è un nuovo capitolo se vogliamo in quello che la vostra relazione ricorda che comunque avete il matto il matto parla sempre della chiusura di un ciclo dell'inizio di un qualche cosa di nuovo ok bene cari amici spero che la lettura vi sia stata utile se si potete mettere un like iscrivervi al canale condividere se volete avere una consulenza con me trovate l'indirizzo email sotto nella descrizione del video vi ringrazio per essere stati qui con me mi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao e andiamo avanti con la seconda stesa ovvero la scatolina indiana andiamo a vedere quindi che cosa diciamo che tipo di tra virgolette problema o disagio vi portate dietro in quello che la vostra la vostra relazione che cerchiamo di andare a capire perché è così complicata che cosa si può migliorare mostrami per il gruppo 2 perché la loro la loro relazione è così complicata re di coppe asso di bastoni e l'appeso dunque quello che sento è che con questo re di coppe una delle due parti ha un qualche tipo di stabilità magari di tipo materiale magari di tipo lavorativo magari una persona affermata magari una persona un personaggio pubblico anche per qualcuno e c'è questa sorta di potere personale di cui mi parla il re di coppe ok sicuramente è una persona che ha fatto un qualche tipo di come vi posso dire di viaggio spirituale di tipo concreto nel senso che una persona che connesso con la propria emotività in tutti i sensi nel bene nel male è una persona che si conosce insomma ci si può parlare e a questa sorta di potere sia materiale che motivano mentre l'altra persona sento che se vogliamo a un qualche tipo di energia di inizio a un qualche tipo di energia mi viene da dire di azione impulsivo che quindi può darsi che qualcuno qui sia un po troppo impulsivo mentre l'altra parte sia un pochettino più calma e più tranquilla e in effetti l'energia della peso mi fa proprio pensare a quello che è un momento di stand by e come se si stessero un po rivalutando la le situazioni o la relazione ok comunque l'asso di bastoni è una carta anche di incontro ok si stanno un po ripeto rivalutando quelle che sono le le dinamiche se vogliamo si sta cercando comunque di dare un altro tipo di senso quello che questa relazione chiamo vedere perché c'era di coppia per piacere grazie ok 10 di spade al 10 di spade e fante di coppa al contrario andiamo a vedere l'asso di bastoni per piacere grazie in questo 10 di post di spade scusate sento che per certi versi è finito un periodo è finito se vogliamo per qualcuno il periodo delle bugie ma più che bugie false promesse nel senso che magari sono cose che sono state dette onestamente cioè nel senso nel momento in cui sono state dette si credeva in quello che si dicevamo poi in realtà si sono dimostrate quelle che sono state un po delle così delle cose dette un po troppo alla leggera e questo probabilmente per qualcuno ha creato un qualche tipo di sofferenza che mi è rappresentato appunto dal 10 di spade di qua abbiamo cavaliere di spade il giudizio e la regina di spade al contrario quindi per certi versi sento che questo tipo di energia dell'asso di bastoni potrebbe fare riferimento a quello che è un qualche tipo di incontro fisico ok è vero che lasso di bastoni riguarda le azioni e gli inizi ma parla anche di quelli che sono gli incontri intimi sotto le lenzuola quindi io sento che può essere che uno di voi due sia una persona diciamo più propensa ad avere questo tipo di incontri che non proprio una relazione vera e propria mentre invece l'altra parte avrebbe proprio voglia di quello che è una relazione d'amore ok per certi versi sento che con queste tre carte quello che sento è come se questa persona l'altra energia insomma una delle due energie è come se si facesse sentire ogni tanto solo quando la intermittenza sempre come dice il cavaliere di spade cavaliere di spade l'energia veloce va per prendersi quello che vuole e se ne va altrettanto velocemente ok se guardate in questo mazzo è rappresentato con la moto neanche col cavallo per dare proprio l'idea di velocità ok sento sì che appunto un po così e c'è questa sensazione di sospensione andiamo a vedere perché c'è l'appeso con una ok ecco l'appeso è spiegato dal matto al contrario del 5 di spade io sento che qui c'è qualcuno che non si fida scusate di questa energia fondamentalmente il diciamo il motivo per cui questa relazione non funziona e perché c'è tanta confusione mentale come dice il 5 di spade e c'è una sorta di sfiducia non sia come vi posso dire la fiducia che questa relazione possa arrivare a un qualche cosa di più ok sento che per qualcuno si tratta proprio di non riuscire a buttarsi perché col cuore intendo perché ci si sente in questa situazione di appeso ci si sente come dire in stand by li fermi che si sta aspettando fondamentalmente i comodi dell'altro allora andiamo a vedere che cosa si può fare per cambiare la situazione andiamo a vedere se c'è qualcosa che vi possono consigliare le carte perché comunque mi pare che sia un pochettino sbilanciata la cosa allora di nuovo il karma il giudizio che avevate anche qui asso di spade al contrario avanti vediamo altre tre carte per piacere grazie grazie proprio tra me ne sono uscite abbiamo il 3 di coppe il 5 di coppe e di nuovo il 5 di spade dunque la carta del karma ovvero del giudizio io qui sento che per certi versi è una relazione che dovete comunque affrontare per una questione appunto di karma è l'unica carta che ho sinceramente però potrebbe fortemente essere per qualcuno che sia un qualche tipo di relazione pattuita livello karmico e che adesso dobbiate vivere per imparare qualche cosa ok l'asso di spade al contrario e anche il 5 di spade al contrario mi fanno capire che voi avete davvero tanta 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 confusione mentale ok c'era anche qui è come se le acque all'interno della relazione fossero torbide non c'è questa reale unione del cuore o della mente sento che più una questione di tipo fisico per qualcuno e comunque abbiamo sempre un 5 di coppe il 5 di coppa mi parla di quello che è un dolore un qualche tipo di dolore che c'è un qualche tipo di pentimento di rammarico ok comunque la fine della stesa è un 5 di spade quindi io sento che questo tipo di energia nel senso non c'è niente che voi a livello attivo possiate fare dovete lasciare che il processo del karma faccia il suo corso ok c'è qualche cosa che probabilmente dovete imparare e dovete passare di lì cioè che voi facciate scaliate una montagna piuttosto che andiate a prendere la luna non cambiano molto le cose andiamo a vedere una carta di incoraggiamento un messaggio di luce ben due wow celebrazione ed è un po questa carta qui no il tradico per ricordo un po la celebrazione e dice comunque di celebrare quelli che sono le vostre vittorie ok perché siete veramente comunque un regalo dell'universo dell'universo o all'universo ok e qui invece parla di libertà dice di seguire il proprio cuore e di nutrire dalla propria anima in modo che la senso di libertà cresca cari amici spero che la lettura vi sia stata utile in qualche modo se si potete mettere un like iscrivervi e condividere se volete contattarmi trovate l'email sotto nella descrizione del video io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao e procediamo con la terza e ultima stesa andiamo a vedere se le carte danno qualche consiglio su come poter diciamo così migliorare quello che è questo tipo di relazione un po complicata ecco andiamo a vedere quali potrebbero essere i punti così delicati ecco bene mostrami per il gruppo numero 3 la relazione e come si potrebbe migliorare tre carte grazie regina di denari cavaliere di denari ancora una per piacere 3 prendiamole tutte 3 8 di coppe gli amanti e 4 di bastoni wow dunque a livello personale nel senso a livello di come posso dire considerazione l'uno dell'altra o l'una dell'altro insomma vi così equilibrate abbastanza sento che comunque siete due energie sono entrambe di denari cavaliere regina quindi sono io sento che avete gli stessi valori per certi versi io sento anche che uno dei due pensa di essere leggermente più avanti dell'altro per quello che riguarda il livello diciamo così evolutivo ma in realtà sento che non è così quella dell'altro che voi pensate essere un ritardo in realtà è solo prudenza quindi non sottovalutate l'altra persona quello che sento con queste tre carte che qui c'è un qualche tipo di scelta da fare con la carta degli amanti ok mi parla di un viaggio mi parla di potrebbe essere che si tratti di trasferirsi insieme di trasferire cambiare di città qualche cosa per lo stile perché lotto di coppe è la carta del ricercatore quindi mi parla dell'andare a cercare un qualche tipo di verità ok che nel posto in cui si è non c'è mentre gli amanti parla proprio di quello che la scelta se vogliamo no è una scelta fatta con il cuore e il quattro di bastoni ragazzi non so se lo sapete ma comunque una carta che fa riferimento a quelle che sono le anime gemelle essendoci anche gli amanti potrebbe proprio essere una relazione di tipo animico quindi andiamo a vedere nello specifico se riesco a dirvi qualcosa di più andiamo a vedere perché c'è questa regina di denari per piacere grazie wow di nuovo 4 di bastoni la torre e 10 di spade dunque qui potrebbe fare riferimento a un qualche tipo di interruzione di chiusura di ciclo per quello che riguarda un contratto un unione potrebbe fare riferimento al matrimonio ok quindi il fatto che qui ci sia una carta di allontanamento la scelta e la stabilità è un unione del matrimonio potrebbe anche fare riferimento per qualcuno al fatto che si stia decidendo se lasciarsi indietro questo matrimonio oppure no perché comunque io qui ho anche la carta della torre e 10 di spade che parla della chiusura di un ciclo di sofferenza ok andiamo a vedere il cavaliere di denari ok 8 di pentacoli e 5 di pentacoli sì qui potrebbe essere che ci sia un qualche per qualcuno fa riferimento ad una situazione di lavoro quindi questo 4 di bastoni fa riferimento a un qualche tipo di contratto perché effettivamente escono anche lotto di pentacoli e il 5 di pentacoli come se ci fosse stato un qualche tipo di delusione a livello lavorativo come se qualcuno si fosse applicato proprio tanto ma alla fine ci fosse stato quello che è un andare via dall'altra persona 5 di pentacoli una carta che parla anche di abbandono ok e in effetti qui un allontanamento da parte di uno dei due c'è stato una scelta da parte di noi andiamo a vedere lotto di coppe gli amanti il 4 di bastoni abbiamo un 2 di bastoni con la tua un'altra volta la regina di denari e la stessa energia quindi qualcuno qui è proprio proiettato in avanti sì io sento che c'è qualcuno che guardate 78 di coppe sento che c'è qualcuno qui che è proiettato in avanti ma sento che si è un po fatto prendere se vogliamo da quelli che sono gli specchietti per le lodole no perché comunque abbiamo un set di coppe che parla di illusioni parla anche di possibilità molte volte ma spesso sono possibilità proiettate da noi cioè nel senso non sono reali possibilità ma sono più appunto illusione proiettate dalla nostra mente sento che comunque è una questione che fa riferimento a un qualche cosa di materiale ok perché qui abbiamo il quattro di bastoni che come vi dicevo prima fassi riferimento a quello che è un contratto ma anche a una casa e qui comunque abbiamo il tre di bastoni che fa riferimento a quello che il guardare al futuro il costruire il progettare ed essendoci così tanti pentacoli comunque soprattutto visto che le due figure principali sono di pentacoli io sento che c'è un qualche cosa che ha a che fare con il materialismo qui bene andiamo a vedere che cos'altro riesco a dirvi con le carte cos'altro che vogliono dire i tarocchi wow alla faccia del materialismo asso di coppe 5 di bastoni 10 di coppe ok un'altra volta la regina di denari impressionante la stella la torre al contrario ce l'avevate già qui e il 10 di pentacoli al contrario dunque per voi insomma all'interno di questa relazione io sento che c'è una difficoltà a fare quello che è un'offerta con il cuore ok abbiamo gli amanti qui e sento che in qualche modo c'è un una necessità se vogliamo di fare questo tipo di scelta con il cuore appunto ma è proprio quello che è la cosa perché se fosse solo per come vanno le cose a livello materiale uno magari avrebbe anche le idee un pochettino più chiara però essendoci di mezzo cuore diventa un po tutto più conflittivo più quello che potrebbe se vogliamo bloccarvi anche un po è la situazione che avete a livello familiare perché sento che c'è un qualche tipo di legame e ripeto potrebbe essere anche riferito a questo quattro di bastoni che mi parlava della casa della famiglia del matrimonio che appunto potrebbe come io posso dire creare qualche tipo di remora creare qualche tipo di pensiero in più magari c'è una qualche solidità già concreta che attraverso questo distanziamento attraverso questa scelta si verrebbe a mancare insomma quello che si sento e di non perdere le speranze voi tenetevi fermi regina di denari regina di denari regina di denari tenete ferme cioè come vi posso dire continuate sulla strada in cui siete adesso nonostante ci sia comunque anche qui questa torre anche qui la torre parla sempre di quello che il crollo del leggo ok e il dieci di pentacoli mi parla di un qualche tipo di ciclo che in realtà non finisce ed è sempre legato alla famiglia quindi io qui sento che c'è proprio una decisione importante a livello familiare per qualcuno potrebbe parlare di un'azienda di famiglia di non so andarsene magari da quello che un'azienda di famiglia per qualcun altro fa riferimento proprio a quello che una relazione di tipo romantico invece ma comunque sento che ci sono delle questioni economiche in ballo potrebbe anche essere per qualcuno fare riferimento a un'eredità di una casa alla gestione comunque di una casa di un'azienda di un qualche gruppo ok quello che potete fare come dicevo è non perdere le speranze rimanere fermi su quelli che sono i vostri obiettivi cercate di elaborare questo dolore perché comunque questo 10 di spalle mi parla di un dolore che ci si lascia alle spalle quindi io sento che potenzialmente rimanendo focalizzato su voi stessi questo tipo di relazione può cambiare quello che sento che forse c'è questo bisogno di avere questa energia un pochettino più materna nei confronti magari dell'altra persona nei confronti della relazione magari cercare di vedere quello che succede all'interno della relazione con occhi materni ma anche nei confronti di voi stessi non fatevi sempre tutti quei sensi di colpa cioè parlatevi bene parlatevi con amore intendo no ok andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di queste carte guardate se ne sono girate due io prenderei questa wow mi parla del mondo interiore e dice che il vostro mondo esterno è una riflessione del vostro mondo interno quindi una volta che si fa un'analisi su quello che c'è che non va fuori si riesce capire cosa c'è che non va dentro e viceversa funziona anche con con il lavoro io posso lavorare le vibrazioni da dentro per cambiare fuori ma posso anche lavorare con le vibrazioni che ho fuori per cambiare il funziona in ambito i sensi e poi guida che bella carta questa dice non sei da solo sei guidato da maestri e insegnanti dei degli alti reami degli alti cieli diciamo bellissima carta questo ok bene io spero di avervi aiutato gruppo 3 se si potete mettere un like al video iscrivervi al canale condividere se volete una consulenza con me potete trovare l'email nella descrizione del video qua sotto io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao